L'onorevole Francesco Berti del Movimento 5 Stelle Buonasera a tutti, grazie per l'inviso Grazie a lei per averlo accettato e c'è anche Matteo Ricci del Partito Democratico ben trovato anche sindaco di Pesaro Buon pomeriggio Vogliamo fare il punto però con Roberto Talley vi dicevamo, stiamo insomma seguendo le evoluzioni della Sea-Watch i migranti restano a bordo ancora a largo della costa siciliana si è in attesa, è già da questa mattina alle 11 il Premier Conte, ricordiamo, aveva detto questione di ore per lo sbarco al momento nulla si muove ma insomma abbiamo seguito il question time del Ministro dell'Interno Matteo Salvini e al termine del quale ha detto sto andando in Ministero, fatemi avere certezza di quello che faranno gli altri poi dirò quello che faremo noi evidentemente si sta aspettando come dicevamo anche prima la formalizzazione di questo accordo tra i sei paesi oltre a noi in tutto sette che hanno dato disponibilità ad accogliere i migranti Roberto Talley, il punto lì dalla Commissione Europea buon pomeriggio buon pomeriggio Elga sostanzialmente oggi appunto le notizie sono due una è questo pare accordo a sette per la ripartizione dei migranti presenti sulla Sea-Watch l'altro è quel rapporto delle Nazioni Unite dell'Alto Commissariato per i Rifugiati sulla rotta proprio del Mediterraneo Centrale quella che ci interessa i dati relativi al 2018 dicono due cose la prima è che gli arrivi sono drasticamente scesi la seconda è che il numero di morti in proporzione agli arrivi è invece purtroppo drammaticamente aumentato questo per tutta una serie di politiche che ben conosciamo il problema che viene lanciato dall'Alto Commissariato è attenzione perché questa tra virgolette guerra alle ONG fa sì che non ci siano più persone più organizzazioni più navi a salvare le persone in mare per questo il tasso di morti aumenta nel 2018 la media è stata di sei vittime al giorno c'è anche da dire che comunque appunto la rotta del Mediterraneo Centrale non è più strategica c'è la Spagna che ci ha sostanzialmente raddoppiato sta crescendo anche la rotta via terra dei Balcani quindi migranti che entrano nell'Unione Europea attraverso la Grecia o la Bulgaria l'altra questione è quella della Sea-Watch siamo in attesa di una ufficialità di questo accordo a sette tra i paesi che sono un po' più o meno i soliti che abbiamo visto anche nei casi precedenti tra i paesi volenterosi questa volta non c'è l'Olanda che in passato invece aveva collaborato evidentemente forse le frizioni degli ultimi giorni non hanno portato ad una disponibilità da parte del governo dell'AIA quello che si sottolinea ancora una volta qui a Bruxelles da parte della Commissione è che queste soluzioni ad hoc con la Commissione Europea che chiama i vari paesi le varie capitali per cercare solidarietà spot temporanea sul singolo caso non è una soluzione che nel lungo periodo può essere sostenibile e quindi serve qualcosa di più concreto e di più strutturale il problema lo sappiamo che qualcosa di concreto e di strutturale al momento non si può trovare né con i ricollegamenti obbligatori che sono stati cassati dai paesi dell'est ma anche creare una formazione stabile di paesi disponibili su base volontaria sempre a prendere questi migranti che sbarcano in Italia al momento non c'è perché ogni volta dobbiamo vedere la disponibilità singola dei vari paesi Elga insomma questa è la situazione con una soluzione che sembra essere almeno europea soluzione europea ancora piuttosto lontana grazie Roberto Tallei non a caso il ministro Salvini ha annunciato qualche ora fa di star lavorando ad un provvedimento che andrà a limitare la possibilità testuale di entrare nelle acque territoriali italiane intervenendo a monte ora cosa significhi questo non lo sappiamo l'annuncio l'ha fatto ma evidentemente insomma c'è un progetto sul tavolo di cui insomma aspettiamo anche noi approfondimenti intanto onorevole Berti una situazione difficile da gestire siamo in attesa dello sbarco probabilmente però si poteva diciamo gestire questa situazione ancora in maniera diversa con più rispetto con più attenzione forse per le vite umane certo che sono ancora lì allora io guardi io dico chiaramente dobbiamo fare chiarezza sui dati perché l'UNHCR la persona che avete appena mandato in onda ha detto ha citato il dato che è percentuale non il vostro giornalista sì il commissario dell'UNHCR ok grande i dati sempre dell'UNHCR dicono che le morti nel Mediterraneo nel 2018 da quando è entrato questo governo sono diminuite e infatti il commissario ha citato dei dati percentuali noi dobbiamo vedere dati assoluti dobbiamo vedere dati assoluti i dati assoluti ci dicono che le morti nel Mediterraneo sono diminuite dal 2018 ad oggi quindi la politica di questo governo nella gestione degli sbarchi funziona perché riducono diminuiscono le partenze e diminuiscono le morti questo dovrebbero dire poi hanno citato anche la legge del 1600 allora nel 1600 non c'era il numero di sbarchi che abbiamo avuto nel 2016 2015 centinaia di migliaia di sbarchi una pressione che l'Italia non poteva più sostenere infatti anche le politiche migratorie dell'ultimo periodo del governo gentilone andavano nella direzione di fermare gli sbarchi perché l'Italia non può gestire da sola una crisi migratoria così importante e lasciata da sola in Europa quindi l'approccio è sicuramente europeo il governo è compatto sul continuare su questa strada che ne pensa invece Ricci ma penso che le partenze sono diminuite in maniera drastica da almeno un anno e mezzo ma per effetto di una politica precedente per effetto di una politica di gestione dei flussi che ha cercato in qualche modo di regolare i flussi in partenza dalla Libia e c'è una differenza però che prima non venivano prese in ostaggio delle navi di disperati e non ci si faceva la propaganda e la politica sopra ma che senso che pericolo sono queste persone che sono stati per giorni e giorni in mare in condizioni igieniche diciamo al limite sono un pericolo per l'Italia ma davvero pensiamo che i problemi dell'Italia oggi i pericoli per l'Italia arrivino da poche decine di disperati che vengono tenuti in ostaggio in mare per la propaganda di Salvini questa è la differenza allora l'immigrazione è un fenomeno complesso da gestire ma va gestito con serietà qui è tutta propaganda addirittura si è aperta una crisi di governo quasi una crisi di governo per la gestione per la propaganda di Salvini cioè per una una presa in ostaggio di un gruppo limitatissimo di persone noi è giorni e giorni che discutiamo solo di questo non parliamo di lavoro non parliamo di economia non parliamo di sviluppo tutto un governo concentrato a capire che si guadagna di più elettoralmente che si guadagna di meno elettoralmente a tenere sotto ostaggio poche decine di disperati allora io credo che questo non appartenga neanche culturalmente all'Italia e spero che prima o poi insomma su questo tema si possa fare un ragionamento serio compreso il fatto che giustamente da anni noi chiediamo all'Europa la solidarietà che serve e poi viene fuori che questo governo attraverso il ministro Salvini si sta alleando con tutti quei paesi in Europa che non vogliono un minimo di solidarietà nei confronti dell'Europa e i nemici che diventano i paesi invece che magari non fanno la loro parte ma che sicuramente sono molto più solidali rispetto all'Austria l'Ungheria la Polonia che non vogliono neanche un migrante italiano è tutto surreale sembra quasi una fiction tutta questa tutta questa storia peccato che in mezzo ci siano dei morti peccato che in mezzo ci siano delle persone che stanno per giorni disperati in mare a causa diciamo di questa volontà di costruirci sopra una politica di propaganda parliamo anche appunto di lavoro è stato firmato ieri il decreto di cittadinanza e di Quattacento a me questo sembra una rivoluzione dello Stato sociale uno Stato che dice agli ultimi io vi do un reddito vi inserisco in un percorso di formazione a lavoro e non un percorso di formazione che poi forma le persone e le lascia a giro per strada un percorso che dà degli incentivi agli imprenditori per assumere delle persone che non hanno un lavoro si tratta tutto di un percorso di ricostituzione dello Stato sociale che noi stiamo facendo e che noi vogliamo fare manderemo un milione di persone in pensione da qui a tre anni per liberare i posti di lavoro anche per i giovani quindi queste sono le nostre politiche che le stiamo portando avanti allo stesso tempo dobbiamo che ci stiamo adesso insomma si sta parlando da giorni di questo caso quando i problemi sono altri ma vorrei ricordare i nostri telespettatori lo sanno bene che per mesi abbiamo parlato soltanto di quota 100 e di reddito di cittadinanza ma ne parleremo perché i cittadini ne hanno bisogno il problema è che magari non parliamo del fatto che nessuno creda non tanto ovviamente chi come me ha un'idea diversa dal parlamentare dei 5 Stelle qua presente ma non c'è un come dire un osservatore economico sociale eccetera che creda che questa manovra produca sviluppo e lavoro perché il tema vero è creare lavoro e invece noi abbiamo avuto una frenata generale dentro la quale l'Italia sta frenando più di altri e i provvedimenti che si stanno portando avanti non producono sviluppo e lavoro e noi siamo a discutere della crisi di governo se i 5 Stelle devono salvare Salvini o perdere la faccia e quindi discuteremo per la prossima settimana di questo cioè se per settimane per me per anni hanno detto che l'immunità parlamentare era un delitto e questo diciamo che è esattamente un dettaglio col Partito Democratico non abbiamo raggiunto il minimo storico degli investimenti pubblici al governo noi invece con questo governo abbiamo messo 15 miliardi in tre anni abbiamo messo la cabina di regia lei ride io capisco che io capisco che ti hanno dato le cose che dovete dire e ripetere ma purtroppo la realtà non è così purtroppo la realtà non è così anche la risata magari vi hanno indicato noi abbiamo preso la disperazione dei cittadini italiani perché in Italia abbiamo il record di disoccupati io faccio il sindaco di disoccupati giovanili voi cosa avete fatto per i giovani io faccio il sindaco cosa avete fatto per i disoccupati se non mandare la riforma fornare avete fatto complimenti va bene adesso state governando voi e dovete fare i risultati perché la gente vi ha dato fiducia adesso dovete fare le cose e lo stiamo facendo bene quello che ti sto dicendo da amministratore io conosco bene il livello di investimenti pubblici in questo paese e se c'è qualche investimento che sta andando avanti in questo momento sono quelli che avete ereditato anzi ogni tanto ne bloccate qualcuno vedi la TAV no? quindi dal punto di vista degli investimenti ne state bloccando tanti quindi il problema vero in questo paese è che gli investimenti in corso ce ne sono partiti prima e voi se fate la gara quanti ne bloccate questo è il punto sugli investimenti non vogliamo bloccare gli sprechi le opere che servono si faranno quindi la TAV è uno spreco va bene devo interrompere perché devo dare un aggiornamento che riguarda intanto una è la Sea-Watch perché sono stati emessi dal tribunale per i minorenni di Catania provvedimenti di nomina di tutore per ciascuno dei minori presenti sulla Sea-Watch al fine delle attività di tutela previste dalla disciplina interna l'atto è propedeutico alla tutela e allo sbarco dei minorenni non accompagnati che sono sulla nave ONG per ora però ancora nessuna notizia relativa allo sbarco l'altro aggiornamento che invece voglio darvi riguarda il caso Diciotti a parlare Salvini sapete che io non ho ancora letto una pagina certo se mi convocano io ci vado io sono rispettoso di chi mi convoca sono assolutamente convinto di avere agito nell'interesse dell'Italia da ministro e da italiano e caso Diciotti vi riporto qui su un caso che evidentemente è attualissimo e anche potremmo dire cruciale per la stabilità del governo avevo sentito parole rassicuranti dal Premier Conte ma c'è stata soprattutto un'azione di peso da un punto di vista giuridico che è questa assunzione di responsabilità collettiva a cominciare dal Premier a cominciare dal ministro Toninelli e anche Di Maio quindi questo significa che voterete compatti no all'autorizzazione a procedere? Allora sulla questione della Diciotti noi abbiamo sempre seguito una linea che è quella politica come governo e anche infatti il presidente del Consiglio Conte si è preso la responsabilità per questi atti politici che noi rivendichiamo perché se noi abbiamo ricevuto un mandato agli italiani di cambiare completamente l'approccio alle politiche migratorie e della gestione dei flussi la responsabilità è del ministro Salvini del ministro Di Maio del presidente del Consiglio Conte e del ministro Toninelli esatto quando si parla di fare degli sconti politici noi il Movimento 5 Stelle ha sempre messo in primo piano l'interesse degli italiani e lo faremo sempre perché quando c'era stato quando la legge anticorruzione è stata emendata al Partito Democratico e anche da alcuni esponenti forze della Lega di Forza Italia che riduceva la penalizzazione dell'abuso d'ufficio del peculato noi siamo intervenuti e abbiamo cambiato quel decreto che riguardava anche alcuni esponenti della Lega quindi il Movimento 5 Stelle sul fare gli scontri politici non ha mai fatto alcuna eccezione qui si tratta però di una scelta politica che riguarda l'interesse pubblico e l'interesse enorme strategico dell'Italia quindi in realtà l'eccezione ci sarà questa volta questo lo decideranno poi i senatori della Giunta perché qui si tratta di mettere in croce le azioni politiche di un governo che è un governo compatto su questa linea politica però lei insomma fa parte del Movimento 5 Stelle è un rappresentante politico la sua idea è che questa volta il Movimento 5 Stelle che da sempre ha puntato il dito contro l'immunità parlamentare è di proseguire coerentemente su un principio da sempre sbaglierato dal Movimento oppure questa volta come ha detto lei nell'interesse della nazione chiudere gli occhi e votare no la valutazione del Senato è vincolata all'accertamento dei requisiti di tutela dell'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o il perseguimento dell'interesse pubblico questo è quello sul quale sono chiamati a decidere i senatori della giunta per le autorizzazioni fatto sta che il governo è compatto sull'aver portato avanti questa linea politica che rivendichiamo e al contrario di quello che diceva il commissario dell'Unione NHCR ha ridotto le morti in mare e l'Italia in tutto questo oltre ad aver ricevuto l'ok dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo cioè che non c'è nessun obbligo di sbarcare queste persone a bordo ha anche mandato tutti gli aiuti medicinali e le risorse per far stare queste persone e per non mettere a rischio la loro salute però continuare con questi sbarchi indiscriminati sulle nostre coste a noi non ci sembra una strategia efficace no 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 ma è direttamente la questione però è un'altra perché insomma la questione è molto segnale qui non c'è l'interesse della nazione qui c'è l'interesse della poltrona questo è l'interesse che scatta no? è forte però questa risatina risatina della poltrona sembra quasi sia il pulsante che fa scattare la risatina nel senso che non ritiene ci sia l'interesse dal punto di vista politico conferma quello che noi sosteniamo cioè il vero capo del governo è Salvini e i 5 Stelle condividono in toto la politica che Salvini sta facendo e tant'è che dice ci assumiamo noi la responsabilità come governo quindi è una cosa politica chiarissima dal punto di vista della coerenza se un magistrato ha deciso di aprire un procedimento penale i 5 Stelle fino a ieri non andavano neanche a vedere le carte cosa che invece va fatta perché tu devi vedere le carte e il parlamentare se autorizza o non autorizza deve aver letto le carte no loro dicevano noi non guardiamo neanche le carte per noi l'immunità è una bestemmia parlamentare e noi comunque votiamo sempre l'autorizzazione a procedere comunque per tutti tranne per chi tranne per chi ovviamente farebbe saltare il banco per questo dico che più che interessa è nazionale interessa la poltrona perché nessuno vuole andare a casa nessuno vuole aprire una crisi di governo tutti vogliono rimanere lì nei posti di comando nei quali sono e quindi Salvini verrà difeso dai 5 Stelle su questo tema io non ho al minimo dubbio sarà l'ennesima capriola io credo che dal punto di vista elettorale molti elettori continueranno io credo ad aprire gli occhi ed è la famosa come dire il famoso giustizialismo e garantismo a fase alterne giustizialiste con gli altri garantisti con i propri ne abbiamo viste altre questa è l'ennesima dimostrazione in genere lo facevano su quelli dei 5 Stelle questa volta l'hanno fatto riconoscendo di fatto il capo politico del governo lo difenderanno una questione che non è sfuggita però onorevole Berti che nel momento in cui Matteo Salvini ha detto processatemi non ci sono problemi il movimento 5 Stelle per voce del suo capo politico Di Maio ha detto beh andiamo avanti votiamo in linea con i principi del movimento votiamo sia l'autorizzazione quasi a voler dire Matteo Salvini non ha problemi noi men che meno quindi andiamo avanti così e poi le cose si risolveranno poi però Salvini ha cambiato idea ha cambiato idea ha scritto al Corriere e ha detto non processatemi per questi motivi e a quel punto crisi del movimento 5 Stelle perché lo sa anche lei che non tutti all'interno del movimento sono d'accordo sul sul no negare l'autorizzazione a procedere questo comunque sul cambio di ideale lo devi chiedere al ministro Salvini perché il movimento 5 Stelle non ha mai fatto sconti a nessuno e mai li farà neanche a quei furbetti del reddito che già si cominciano a diramare nei centri nei CAF dove si darà consulenze per il reddito dei cittadinanze e appunto un consigliere comunale del Partito Democratico dava già consigli su come fraudare il sistema io mi sono anche trascritto le dichiarazioni perché sono cose allucinanti il movimento 5 Stelle in questo sarà inflessibile su cosa? sulla storia del CAF? su tutti tranne che Salvini no assolutamente troppo perché questa è una scelta del governo infatti non si capisce come mai ci sia solo Salvini chiamato a rispondere perché questa è una scelta del governo e questo l'abbiamo rivendicato dal giorno 1 non da adesso questo l'abbiamo sempre rivendicato che questa è una scelta del governo si aspetta che il Partito Democratico comincia a condannare i furbetti che sono sia nelle istituzioni e nel CAF sul reddito di cittadinanza dopo anni che ci facevano la morale sul fatto che il reddito di cittadinanza era un aiuto ai furbetti i primi furbetti ce l'avete voi quindi anche voi dovete cominciare a fare gli unici furbetti in questo caso siete voi che ti stai arrampicando sugli specchi difenderete Salvini e per l'ennesima volta avrete detto delle cose contro gli altri e quando capita a qualcuno di voi in questo caso neanche a voi al principale alleato capo del governo lo difenderete è una questione di coerenza gli uno risponde ovviamente delle cose che dice e delle cose che fa io sono garantista lei no probabilmente io sono un garantista quindi immagini si immagini abbiamo sempre detto che per gli indagati si leggevano le carte tranne in cui c'era voi avete sempre detto guarda non mi fare andare a prendere i video questa decisione è stata presa dal suo governo non si succede perché è indagato solo il ministro Salvini in tutte le questioni dove è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in Parlamento tutti i vostri interventi sono stati basta riprendere la rasina stampa di oggi i 5 stelle votano sempre per l'autorizzazione a procedere anche perché ritengono una cosa fuori dal mondo l'immunità parlamentare tutte le dichiarazioni pubbliche in Parlamento che avete fatto l'immunità parlamentare veniva usata come uno scudo dai politici che prendevano arriva Salvini e dice io non rinuncio all'immunità parlamentare e voi lo difenderete non autorizzando questo è tutto da vedere se la lo sa già bene la notizia interpreto le cose che lei ha detto ma lei non interprete lei deve andare a vedere i voti nella giunta del senato che si voterà nei prossimi mesi vedremo la scelta che verrà presa ma ripeto se non abbiamo capito male sono l'orizzonte temporale di due mesi ma ci sarebbe anche la possibilità oggi arrivano già le carte questo verrà visto però ripeto qui non si tratta di scegliere se salvare o non salvare il ministro Salvini qui si tratta di difendere le scelte di un governo che rivendichiamo come presidente del Consiglio e ministri del Movimento 5 Stelle e parlamentari del Movimento 5 Stelle quello l'ha spiegato benissimo e come dire che le politiche di Salvini sono le vostre si è capito benissimo e non fa una piega ma se un magistrato ha aperto un procedimento perché ritiene che il ministro che non è sopra le leggi nessun ministro della Repubblica è sopra le leggi ha violato una legge voi non dovete condannare Salvini voi dovete consentire a quel magistrato e a quei giudici di verificare se le responsabilità di Salvini dal punto di vista penale ci sono o no come qualsiasi altro cittadino allora questa cosa non potete non vederla questo sta svolgendo delle funzioni ministeriali e il ministro in questo caso ma tutto il governo sono messi sotto accusa per delle funzioni ministeriali che tutelano l'interesse pubblico perché hanno arrestato 19 persone ieri al cara di Mineo il Partito Democratico ci ha lasciato lo Stato e la gestione dell'immigrazione in maniera disastrosa persone che entravano nel nostro Stato senza alcun tipo di controllo se vogliamo continuare con queste cose continuiamo pure ma gli italiani dovevo cambiare l'argomento lo cambio io manca un minuto volevo allora chiedere che cosa sta succedendo sulla Tav visto che pare che le emozioni alla camera siano slittate a metà febbraio era pure quella insomma una questione abbastanza urgente tutto rinviato? figuriamoci se il Movimento 5 Stelle a prescindere prende una decisione senza appunto vedere e andare nello specifico qui è stata fatta un'analisi costi benefici che dimostra a quanto pare non è ancora stata pubblicata però da quello che ho potuto leggere che i costi della Tav sono maggiori dei benefici non è ancora stato fatto alcuno scavo che non sia geognostico cioè per vedere se l'opera sta in piedi ma scavido quindi lei ha letto queste carte e risulta comunque che non è conveniente proseguire da delle voci del Ministero dell'Infrastruttore e delle Sporti la nostra posizione è che questa opera non è prioritaria perché spendere 20 miliardi per risparmiare 40 minuti in un pezzettino in strada con tratte non solo al sud ma anche al nord per esempio o anche nel centro Livorno-Siena ci vuole due ore e mezzo per fare poche centinaia la TAV secondo noi non è un investimento prioritario per il paese poi se vogliamo esagerare e dire che bloccando la TAV si blocca lo sviluppo del paese allora perché fino ad adesso non si è fatta 30 anni fa quando doveva essere progettata questa domanda volevo capire se c'era una novità in merito va bene il tempo a nostra disposizione è finito grazie onorevole Berti per essere stato con noi grazie anche a Matteo Ricci a voi per l'attenzione